Una vita di stelle, librari, group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Sinossi del romanzo Il segno svelato. Un viaggio, un sogno, una voce. Così il nostro protagonista viaggia veloce tra mistico ed attuale alla ricerca delle rovine dell'istintualità per ritrovare l'intrigo di un puzzle. La voce, quella che perentoria lo incalza, è quella che gli sussurra nella mente le soluzioni agli enigmi di un caso apparentemente irrisolvibile. Eppure lei sa. Contemplativo, soprannaturale, ma anche incredibilmente odierno, con la sua Italia descritta dalle finestre di casa, mentre si assapore il caffè della moca, osservando il cielo blu. Ecco un thriller nuovo, che sa appassionare e sbigottire, e vi conduce, ignari, all'epilogo impensato.